Questa sera ci troviamo con Progetto con Cittadino per il lancio della mia candidatura consigliere regionale. Abbiamo deciso, coerentemente col percorso di lista civica, ambientalista e progressista, di appoggiare ed entrare all'interno del patto civico per Maiorino Presidente, che è il contenitore politico nel quale ci troviamo a nostro raggio. Qui a Varese i temi che porteremo avanti sono quelli che stanno più a cuore e quello è il tema dell'ambiente, il tema dell'economia verde che gira intorno alla transizione energetica ed ecologica che deve vedere la Lombardia capofila in Italia e a nostro avviso anche in Europa per il lancio delle comunità energetiche, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica. Accanto a questo c'è tutto il tema dell'equità sociale, l'importanza cioè della giusta e equa transizione, non perdere dietro nessuno, da questo punto di vista il tema della sanità. È evidentemente molto sentito qui in Lombardia ed è uno dei temi cardine che la lista patto civico per Maiorino Presidente pone al suo interno. Pensiamo che il territorio della provincia di Varese abbia molto da dire, ha delle bellezze ambientali enormi, soprattutto in alcune zone dei laghi, delle montagne, abbiamo un tessuto produttivo che può dire la sua dal punto di vista della transizione energetica e ambientale.